Un posto al sole anticipazioni. Trama puntate, dal 23 al 27 maggio 2022. Michele e Silvia si riavvicinano. Ci aspettano storyline ricche di tensione. Rossella entrerà in un forte stato di crisi, mentre Silvia resterà a Napoli, e si riavvicinerà al suo ex marito. Franco e Angela condurranno delle indagini segrete, per risalire all'autore delle web challenge, mentre Filippo proverà a parlare con Roberto, che non ne vorrà sapere di riconoscere il bambino, atteso da Lara. Lunedì, 23 maggio 2022. Silvia, dopo aver constatato lo stato in cui riversa Rossella, capisce di dover rimandare la sua partenza a Bari, per il bene della figlia. La ragazza è molto triste, a causa della fine della sua storia d'amore, con Riccardo Crovi. Angela e Franco si impegnano a risolvere insieme a Bianca, il pericoloso caso delle web challenge. Per questo motivo, chiedono alla figlia di aiutarli a trovare il misterioso autore, che ha dato inizio alle pericolosissime sfide online. Nel frattempo, Guido, dopo un divertente scambio di battute, con Salvatore Cerruti, decide di partire per Siena insieme a Mariella. I due vogliono scoprire se Bruno Sarti ha davvero un flirt segreto, con il famoso infermiere di cui si parla tanto. Sasa viene tradito? Oppur si tratta di un clamoroso equivoco? Ornella è preoccupata, a causa delle situazioni di tensione, che si vivono in ospedale. Martedì, 24 maggio 2022. Ornella rimprovera duramente Rossella, dopo che la ragazza ha avuto un vivace scontro, con Virginia in ospedale. A complicare ulteriormente la situazione, concorre l'insistenza di Riccardo nel voler a tutti i costi, avere un confronto con la Graziani, alla quale vengono meno concentrazione e benessere psicologico. La carriera lavorativa della giovane dottoressa, è gravemente compromessa? Le conseguenze sul lavoro, potrebbero essere catastrofiche. Micaela e Manuela chiedono a Nico, di poter trascorrere le vacanze estive, con il piccolo Jimmy. L'avvocato non prende la loro iniziativa, nel migliore dei modi. Una volta giunti a Siena, con lo scopo di scoprire la verità sul dottor Sarti, Guido e Mariella si distraggono un po' dal loro piano, godendosi appieno le meraviglia della città. Ferri chiarisce a Lara, di non voler riconoscere il bambino. Mercoledì, 25 maggio 2022. Lara è determinata più che mai, a portare avanti la sua inaspettata gravidanza. Il tutto, contro il volere di Roberto, che soffre a causa della mancanza di Marina. La Martinelli è disperata e si mette contro l'imprenditore ottenendo, in un momento di forte fragilità emotiva, la solidarietà di una persona insperata. Di chi si tratterà? Di qualcuno legato alla famiglia di Roberto? Rossella commette un gravissimo errore medico, un paziente potrebbe morire? Ed entra in piena crisi, sia lavorativa che personale. Ornella cosa le consiglierà di fare? Silvia capisce che deve stare più che mai accanto alla figlia, e sostenerla nei suoi momenti difficili. Nico è ancora molto inquieto, non vuole in alcun modo di staccarsi da Jimmy, e passare le vacanze senza di lui. Intanto, in quartiere, si vivono momenti di grande tensione, per via di numerosi arresti. Giovedì, 26 maggio 2022. Dopo il gravissimo sbaglio commesso, continua il forte malessere psicologico di Rossella, conscia oramai di non poter più lavorare, nelle pesanti condizioni in cui riversa in ospedale. Silvia continua ad essere fortemente rammaricata, per la figlia. La vicinanza di Virginia, intanto, è per la Graziani fonte di grande sofferenza. La Rinaldi, intanto, determinata più che mai a farsi perdonare, e da riparare il suo matrimonio, preme su Riccardo affinché l'uomo arrivi, finalmente ad aprire gli occhi. Roberto continua a rifiutare Lara. Non ne vuole più sapere di lei, in quanto il suo cuore appartiene a Marina ormai. Lo scontro cattura l'attenzione di Filippo, che inizia così a riflettere sul duro comportamento, del padre. Che cosa gli consiglierà? Di assumersi le sue responsabilità? Franco ed Angela continuano, le loro indagini segrete. Venerdì, 27 maggio 2022. Riprendono le operazioni speciali anti-camorra, gestite dal magistrato Eugenio Nicotera. Esse gettano nel panico tutti gli abitanti del quartiere, certi che adesso i superstiti del clan Argento, arrivino a sferrare un attacco più grande e pericoloso. Viola ed i suoi familiari sono in pericolo? La forte confusione di Rossella, è peggiorata dall'inaspettato riavvicinamento, tra i suoi genitori. Michele e Silvia, infatti, vivono un momento di forte distensione emotiva. La Graziani, data l'assenza di Giancarlo Todisco, per motivi lavorativi, sembra voler riconsiderare il suo rapporto con il giornalista. Intanto, a Siena, va avanti la resa dei conti tra Cerruti e Sarti. Cosa succederà alla fine tra il dottore ed il vigile? Bruno ha davvero una relazione segreta, con l'infermiere del San Filippo? Riccardo non sa se accogliere o meno, la proposta di Virginia. Anticipazioni Un posto al sole. Marina perde la pazienza e decide di partire. Da quando Lara Martinelli è entrata nel cast, della serie Partenopea, intrighi e colpi di scena hanno fortemente caratterizzato, la vita di Roberto e della donna da lui amata, Marina Giordano. Fabrizio Rosato, il marito di quest'ultima, ha da poco scoperto i tradimenti della consorte, perpetrati ai suoi danni con Ferri e, deluso, ha preso una sofferta, ma necessaria decisione. Lasciare sua moglie. C'è da dire che il matrimonio tra il proprietario del pastifico Rosato e Marina non è mai stato dei migliori, per via dei trascorsi dell'uomo e dei comportamenti spesso aggressivi verso la sua amata. Ritornando a Lara, negli ultimi tempi, la donna è apparsa sempre più, come la supporter cattivissima di Roberto, l'esecutrice materiale dei crimini, da lui commissionati. Come si è visto di recente con la vicenda ha coinvolto suo malgrado Chiara Petrone, la Martinelli ha fatto di tutto per aiutare Ferri, ad impossessarsi dei beni ereditati dalla ragazza, arrivando a plagiare ed a manipolare quest'ultima, al fine di ottenere scottanti verità. Lara è una donna cinica e senza scrupoli, pronta a tutto per raggiungere i suoi scopi. E, da quanto ci risulta, continuerà anche in futuro, a creare problemi ai personaggi da lei odiati, o ritenuti, utili per i suoi obiettivi. Nell'immediato, però, la Martinelli se la vedrà brutta, in quanto la sua più acerrima nemica, ovvero Marina, farà una scoperta sul suo conto molto grave. Stando alle news riportate dalla trama, Lara ha recentemente aperto gli occhi a Fabrizio, riguardo ai veri sentimenti che la sua antagonista prova, verso Roberto. Rosato, ferito nel profondo, deciderà di chiedere la separazione alla Giordano che, furibonda, si scaglierà contro Lara, perdendo letteralmente il controllo. Come proseguirà la vicenda? Dopo il gesto commesso, la Giordano capirà di dover riprendere in mano le redini, della propria vita per non soccombere. Travolta dagli eventi, sentirà il bisogno di rimettersi in sesto. E mediterà di allontanarsi di nuovo da Napoli? Lo farà veramente? Non perdete i prossimi episodi, perché nulla è da dare per scontato, come ha lasciato trapelare la stessa interprete dell'imprenditrice, Nina Soldano, sui social. In un post, ha scritto tempo. Ancora tanti retroscena da scoprire, e verità da svelare. Io e Marina siamo pronte, e voi? Restiamo in attesa di nuovi approfondimenti. Anticipazioni un posto al sole. Difficilissima decisione per la piccola Bianca. Qualche mese fa vi abbiamo spoilerato che, a un posto al sole, sarebbero cominciate alcune vicende con al centro della scena, momenti di forte tensione. E che queste storie avrebbero riguardato i piccoli, o meglio i protagonisti, Young, della serie. Ebbene, le pericolose sfide online che nell'ultimo periodo, stanno contraddistinguendo le giornate di Bianca Boschi, non sono affatto terminate. Anche un'altra bambina finirà pericolosamente, nel giro delle web challenge, esponendola a gravissime conseguenze. Tutto comincerà quando, presso la scuola frequentate dalle due ragazzine, cominceranno a verificarsi dei fatti, che manderanno in allarme la loro supplente, ovvero la valente professoressa Viola Bruni. La donna, di recente, anche in relazione alle indagini condotto dal marito Eugenio, che hanno portato all'arresto di un pericoloso boss del quartiere, è rimasta vittima di pesanti minacce. Non lasciandosi per niente intimidire da esse, ha ritenuto opportuno affrontare in classe, con i suoi alunni, tematiche di scottante attualità, fra le quali quelle inerenti la criminalità organizzata. Ed ha invitato il giornalista Michele Saviani, per un intervento costruttivo. Purtroppo, nulla è andato come previsto, in quanto la lezione è stata rimandata, a causa di uno strano sabotaggio. In altre parole, proprio quando l'uomo ha preso la parola, qualcuno ha fatto scattare l'allarme antincendio, portando gli studenti ad evacuare e ponendo fine alle lezioni. Ma ecco il colpo di scena. Dopo qualche giorno, le anteprime indicano che ci sarà uno strano dialogo, tra Bianca e Gaia che farà intuire alla Boschi, che è stata la sua amica ad azionare il sopracitato allarme. La figlia di Franco, alla luce di ciò, coraggiosamente, comincerà a fare pressing alla sua amichetta in modo da spingerla a confessare. Sarà così che, dopo momenti di grande tensione, Gaia ammetterà di essere caduta, nella terribile rete operante sul web. E proprio quando tutto sembrerà ritornare alla normalità, una nuova minaccia, porrà le due ragazzine nei guai. In altre parole, arriverà l'ennesima sfida da superare. Essa richiederà di scattare una foto, in una situazione estrema. Gaia, senza pensarci due volte, si recherà sulla torretta della terrazza, in modo da adempiere egregiamente al suo compito, ma... rischierà di cadere nel vuoto. Per fortuna, se non si consumerà un vero e proprio dramma, lo si dovrà ad un personaggio storico della serie, Raffaele. L'uomo, avvistata la bambina, chiamerà il cognato Renato e, insieme a lui, la metterà in salvo. Pericolo scampato? Cosa succederà poi? Spoiler precisano che Bianca, prenderà una difficile decisione per aiutare Gaia, ad uscire dalla trappola delle web challenge. Per riuscire nella sua impresa, non vedrà altra scelta, se non quella di rompere il muro di silenzio. Lascerà quindi intendere che le sfide online, si basano sull'omertà, e che chi ne entra a far parte, non deve sciogliere questo patto. Occhio dunque ai prossimi appuntamenti di un posto al sole. Angela e Franco interverranno nella faccenda, cercando di risalire al misterioso autore, che ha dato inizio alle sfide. Infine, i prossimi appuntamenti parlano di drammi all'orizzonte, presumibilmente provocati da un personaggio che tutti hanno oramai gettato, nel dimenticatoio. Tali tragedie proverranno ad un versante caduto, per ovvi motivi nell'oblio. Chi ritornerà, dall'oltretomba? Staremo a vedere. Anticipazioni un posto al sole. Silvia ama ancora Michele? Intanto i vigili vogliono incastrare Bruno Sarti, e studieranno un piano per stanarlo. Nelle puntate primaverili di un posto al sole, è tempo di scelte non facili, per molti protagonisti della serie. Giancarlo Todisco, ad esempio, il bancario della SOP Nonché Nuovo Amore di Silvia, sta prendendo fortemente in considerazione, un trasferimento a Bari per un avanzamento di carriera. E ha chiesto alla sua amata di seguirlo. Silvia, però, è molto legata sia a Napoli che al Caffè Vulcano. E, in aggiunta a ciò, non sembra affatto in grado di gestire, una relazione a distanza. La donna, in altre parole, che ha già affrontato un grande cambiamento nella sua vita, ovvero la separazione dal marito Michele, non appare per nulla propensa, ad affrontare un'altra ancora più epocale. La ristoratrice, dunque, non ha ancora rifiutato completamente l'idea del suo compagno in quanto non vuole che, a causa sua, rinunci alla grande opportunità che gli è stata data. Dunque, cosa accadrà? E, ancora troppo presto per tirare le somme ma quel che è certo è che Mariella Altieri, da sempre grande sostenitrice delle scelte della Graziani, si sta ponendo fin troppi dubbi, sul fatto che l'amore tra la donna e Michele, sia per davvero arrivato al capolinea. E, a breve, ci sarà un dialogo tra lei e la sua amica, che ci farà capire qualcosa in più. Cosa ne pensate? Giancarlo partirà da solo e Silvia, alla fine, tenterà di riavvicinarsi al consorte? Sì. E da trattenere la Graziani, saranno soprattutto i problemi di sua figlia Rossella, con Riccardo. Le anticipazioni, inoltre, indicano che, a breve, assisteremo ad una sorta di patto tra Giancarlo e Silvia, e che la donna correrà dalla figlia Rossella, per maggiori consigli circa l'accordo preso col compagno. I due riusciranno a gestire una relazione a distanza? Pare di no, visto che nelle puntate di fine maggio, Silvia e Michele si riavvicineranno. E non poco. Poc'anzi, abbiamo citato Mariella Altieri. Come suo marito Guido, anche lei è convinta che tra Bruno Sarti, e un infermiere del San Filippo sia in corso, una relazione segreta. Per i due vigili, Sasa viene continuamente tradito dal dottore. Nella terza decade di maggio, Bruno dovrà trasferirsi a Siena, per un importante convegno medico. Mariella e suo marito, certi di poter cogliere in flagranza il medico, nella bellissima e suggestiva città toscana, decideranno di seguirlo in modalità, detective. Cosa scopriranno? I dubbi da loro espressi saranno leciti? Per Cerruti sta per cominciare un periodo buio? E tutto da vedere. Anticipazioni un posto al sole. Prossime storyline. Lara Martinelli aspetta un bambino. Non riusciremo a liberarci tanto facilmente dell'amata, quanto odiata Dark Lady della S.O.P., ovvero la bionda Lara Martinelli. Il personaggio interpretato da Chiara Conti, è riuscita finalmente a trovare, il gancio, per non uscire più dalla vita di Roberto, e per liberarsi della rivale Marina. In altre parole, Lara scoprirà di essere incinta, proprio quando la Giordano, ottenuta la separazione da Fabrizio, sarà libera di viversi il suo amore con Ferri. Approfittando della sua gravidanza, la donna metterà il compagno alle strette, riuscendo a distorcergli, quel che ha sempre volto da lui. Esasperata Marina aggredirà la sua antagonista, e si accingerà a prendere il primo aereo, per Londra. Ma, ecco che è arrivata una notizia dell'ultima ora, pronta a tranquillizzare i fans di un posto al sole. L'assenza della Giordano, non è da considerarsi definitiva. Non c'è alcuna uscita di scena in vista. Come proseguirà questa storyline? Al momento, sappiamo soltanto che Lara, vorrà tenere il bambino mentre Ferri, non ne vorrà saperne di riconoscerlo. E in tutta la questione, entrerà presto anche, una sorta di colpo di fortuna. Di cosa si tratterà? Infine, qualcuno di inaspettato verrà in soccorso alla Dark Lady, sostenendola nel suo momento difficile. A quanto pare si tratterà di Filippo che, disgustato dal comportamento del padre, tenterà di farlo riflettere. A breve, tutti i dettagli. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio